fa sentire? sta buono cazzo il papero no! funziona ancora? funziona, funziona! fa un male della madonna! beh adesso ci metti che venissi, beh adesso ci sono tutti di riciera nell'adriatico ci passavano ci sono delle signori che ci hanno delle cure per quelle cose! si me lo hanno detto anche a me però qui davanti eh! faccio un'ottima fatica ancora! scottotitoli OOOUHHHHHHHHH OOOUH 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 OOOUHH OOOUH OOOUH Sì, 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 sì. oh 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.